guardate che vista da matraia matraia volendo si vede il fiume cerchio laggiù spettacolo la rondine lucca vi porta in giro per la collina lucchesi ciao ciao e venite a trovarci www.larondineplus.it www.larondinelucca.it vi volete fare dei denti belli come i miei io da piccolo ce l'avevo ci passava ci passava un treno tra uno e l'altro andate su clinica dentale germignani clinicadentale.it e scoprirete un mondo di sorprese dentisti per bambini di tutto denti super adulti ovviamente e ora vi lascio al vostro inquadratone ciao